Musica 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 non c'è un po' di martello perché devo rubare un martello dunque lei è dell'intelligente qui ma ho Voi fuori ma, paccino a... ... 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 …ma quale è da' di descende, però… …qu'è riscente, ma va' dai un po' che rava… …ve se siamo andati a polipoli… Ehehehe… …data la tompe se polipoli! … …a ha ha ha! …oi ho capito… …sciarere di ieri di ieri e ritorno… …ha ma la cantina di forno di questi… …ma uff… …ta a manacare che li porri in mare i secoli capito… ma cos'è il giugno? l'acqua non vedete la, non mi ricordo non non è il giugno non è il giugno non mi ricordo che è fuori se desideri, è il giugno ah, te raccoglie il giugno ma forse il giugno non mi ricordo Grazie per la visione!